Ancora qui, stiamo in via del Vignola, strada del Flaminio tranquillamente posta tra il Lungotevere e Belle Arti, bellissima strada, passando ci siamo imbattuti in un'altra strada bellissima, diciamo un borghetto, vediamo il borghetto. Eccolo qui, un borghetto privato dove meta di turismo perché è bellissimo, ricorda un po' la piccola Londra, così con tutte le entrate a filo strada e laggiù vediamo che c'è un'altra entrata da via Flaminia e qui ci girano tantissime pubblicità, film e caratteristiche suggestive proprio perché non ci sono macchine Tutte le entrate sono così, proprio come sono quelle di Londra, dalla strada principale direttamente in tre metri lineari, scalinate e appartamenti. Non entriamo perché ovviamente proprietà privata, rispettiamo tranquillamente la loro privacy, ma non possiamo far altro che riprendere tranquillamente questa strada. Grazie, alla prossima! Grazie, alla prossima! Grazie, alla prossima!